Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sul Sole 24 Ore, che è poi l'osservatore romano della globalizzazione neoliberale, ci viene data notizia del fatto che Mario Draghi si incontrerà con le aziende europee. Il titolo del Sole 24 Ore è lievemente edulcorante e forse anche un poco fuorviante, da che a voler essere più precisi e più rigorosi, l'euroinomane di Bruxelles si incontrerà con le multinazionali europee e rigorosamente a porte chiuse. Non si incontrerà infatti con le piccole aziende locali e territoriali, si incontrerà invece con i colossi del big business, le multinazionali come Vodafone per dirne una. E quindi ancora una volta l'euroinomane delle brume di Bruxelles si conferma perfettamente schierato nel diagramma dei rapporti di forza dalla parte del grande capitale no border. Non che ne avessimo dubbi, ma ora ne abbiamo un'ulteriore conferma. Ancora una volta Mario Draghi non rappresenta l'interesse nazionale italiano in Europa, ma al contrario rappresenta l'interesse del grande capitale in Italia, come peraltro è emerso dal ruolo che finora ha svolto, lo ricordiamo in sintesi. Il cursus honorum di Mario Draghi è di adamantina chiarezza, parte da Goldman Sachs, lo troviamo a bordo del Panfilo Britannia nel 1992, diventa presidente della BCE quando scriverà anche la famosa lettera con cui chiederà all'Italia di fare le riforme imposte dalla BCE, diventa poi presidente del Consiglio garantendo in Italia l'interesse del capitale e adesso si ventilava anche la sua possibile entrata nella Nato, cosa che non è accaduta, ma comunque Mario Draghi continua a essere celebrato come una delle voci più autorevoli dal mainstream politicamente corretto e saldamente schierato nel diagramma di forze dalla parte del rapporto dominante.